È bello suonare qui perché qui è la gente che ama la musica, dove la musica non è una delle cose, è una cosa importante, è bello suonare per voi. E poi sempre quando si esce dal mare Adriatico si ferma qui, prima di uscire, ma io parecchie volte sono qui. Abbiamo quest'anno avuto un'Alba dei Popoli ricca di eventi, tanti eventi musicali, culturali di grandissimo livello e questa sera con Bregovic l'Alba dei Popoli si accende con i concerti in piazza. Domani sera avremo anche Irene Grandi, il 31 chiudiamo e attendiamo la prima Alba del 2018 con l'articolo 31 2.0, Eugenio Bennato e tante altre band importanti. Abbiamo voluto rimarcare con la presenza di Bregovic ma anche con l'inaugurazione di questa mostra dell'artista albanese Fatevelay il nostro collegamento con le sponde trasfrontaliere, quindi questo ruolo che ho tanto sempre tenuto di collegare l'Occidente e l'Oriente. Continueremo a farlo.